I centri commerciali naturali sono la riorganizzazione dei centri storici delle città piccole e grandi per creare l'effetto centro commerciale attraverso la messa in rete delle attività commerciali che ci sono su quel territorio e vediamo che quel messaggio che abbiamo fatto anche con il bando del 2008 per favorire questo tipo di sinergie tra comuni e settori del commercio sta funzionando perché c'è una certa vitalità nei territori noi riteniamo che le nostre città piccole o grandi abbiano delle caratteristiche storiche, culturali delle bellezze naturali da poter essere centro di attrazione è chiaro che ci vuole una rivitalizzazione attraverso il vissuto e le attività commerciali e anche alcune attività artigianali di servizio possono essere utili a creare quel sistema tra virgolette centro commerciale all'interno delle città mi pare anche che si stiano superando alcune divisioni purtroppo noi ci siamo tardati troppo tempo tra il discutere piccolo o grande fuori delle città e qualche attività l'abbiamo persa però io credo che adesso lo sforzo sia sentito mi pare che i territori reagiscono e quindi all'interno delle città c'è anche la disponibilità credo è l'opportunità di mettere anche qualche grande distribuzione di attrazione così il piccolo e il grande assieme possono fare quella massa critica sufficiente per far sì che le persone, le famiglie vadano nei centri vivano quel territorio e soprattutto passino tranquillamente qualche ora in serenità abbiamo fatto un bando nel 2008 alla fine che prevedeva un triennale e sia per il 2008 sia per il 2009 ci sono circa 7 milioni di distanziamento io credo che anche per il 2010 metteremo la stessa somma e questo riguarda questo intervento specifico però ci sarà anche la possibilità di alcune linee di intervento queste necessariamente a favore dei comuni quindi della rivitalizzazione dei centri storici anche sulle linee degli ex FAS cioè le fondi per le aree sottosviluppate e quindi non solo attraverso una linea di credito ma anche attraverso più linee parte di risorse al pubblico e quindi ai comuni in quel caso e parte di risorse anche alle attività commerciali che si mettono in sinergia quindi chi si metterà in un contesto ordinato assieme a comune, assieme a attività produttive avrà priorità rispetto ad altri che vanno ognuno per conto loro